In questa lezione ripercorriamo le tappe principali della vita di Svevo e cerchiamo di sottolineare gli aspetti più importanti relativi al pensiero e alle influenze culturali che caratterizzano ovviamente la sua visione e le sue opere. Bene, già sicuramente qualche cosa sulla vita dovreste saperla se avete visualizzato il video che vi avevo consigliato l'ultima volta. Adesso andiamo insomma a leggere, o meglio a rivedere le parti del vostro testo più importanti sulla vita per poi passare insomma alle influenze sia filosofiche che letterarie che subisce. Allora. Ottimo. Ovviamente mi metterò anche il materiale formato pdf sulla laula virtuale. Allora. Svevo. Nasce nel 1861 e il suo vero nome è Aaron Hector Schmitz. Quindi Italo Svevo è uno pseudonimo letterario. Come mai sceglie questo pseudonimo? Ovviamente lui nasce a Trieste che all'epoca faceva parte ancora dell'impero asburgico. Ovviamente quando si trova ad operare immediatamente dopo, soprattutto, ormai Trieste fa parte dell'Italia. E quindi in un certo senso Italo Svevo è un modo per sottolineare le sue due matrici culturali. Quella italiana, naturalmente, Italo, e quella tedesca, Svevo. Appartiene ad una famiglia borghese abbastanza ricca, di origine ebraica. Quindi vediamo, abbiamo la matrice italiana, dal punto di vista culturale, quella tedesca, e infine anche quella ebraica. Quindi la visione di Svevo è molto ampia, molto europea, differente da quella degli altri autori dell'epoca nel nostro paese. Fin dall'inizio viene avviato a studi di tipo tecnico. Studia in particolare in un collegio tedesco, quindi conosce perfettamente la lingua germanica. Comincia ad avvicinarsi alla lettatura, in particolare ad autori tedeschi, Goethe, Schiller, Aine, e a 17 anni prende a frequentare un istituto per il commercio a Trieste. Tuttavia il suo desiderio di diventare scrittore lo fa avvicinare, insomma, la letteratura, in particolare alla composizione di testi per il teatro e alla scrittura anche per un giornale triestino, l'Indipendente, per cui realizza articoli di critica letteraria, teatrale, eccetera. Dal punto di vista politico lui aderisce a quelle posizioni irredentistiche che sono molto simili a quelle di altri autori, per ricordarne uno d'annunzio, cioè coloro che desideravano che anche alcune parti dell'Italia, che oggi appartengono all'Italia del nord-est, entrassero a far parte della nazione italiana. E si avvicina anche al socialismo. Nel 1880 l'azienda di suo padre fallisce e dal punto di vista economico subisce un declassamento, quindi si impiega in una banca, anche se questo tipo di lavoro non lo stimola e quindi comincia a scrivere il primo romanzo, Una vita. Qualche anno più tardi, nel 1896, si sposa. Sua moglie è particolarmente ricca, suo padre gli permette di assumere un incarico di grande importanza nella sua azienda e quindi diciamo che dalla media passa all'alta a Borghissia e si dedica all'attività manageriale di un'industria. Viaggia spesso in Francia e in Inghilterra e pubblica nel 1898 il suo secondo romanzo, Seminità. E anche questa volta però non riscuote successo. La delusione è molto forte e lo porta ad abbandonare per alcuni anni l'attività letteraria. Anzi, a disconoscerla del tutto. Alcuni anni più tardi, nel 1906, ha modo di incontrare, di fare amicizia con James Joyce, che è un famosissimo scrittore orlandese che insegnava a Trieste inglese. Lui infatti si avvicina a James Joyce proprio perché ha bisogno di imparare perfettamente l'inglese per questioni di lavoro. Avvicinandosi a quest'autore, ritorna la passione per la letteratura. Anche perché James Joyce lo apprezza fortemente e quindi diciamo che riacquista fiducia e comincia di nuovo a scrivere. In particolare, questa nuova scrittura è dovuta anche a un'altra influenza. Un suo parente si rica dal dottor Freud a Vienna per, insomma, seguire una teoria, una terapia, la terapia della psicanalisi. E quindi scopre le teorie psicoanalitiche non più, non tanto per una questione legata alla sua salute, quanto per trarne spunti per la scrittura. Infatti l'opera che lo ha reso famoso ha molto a che fare con queste teorie psicoanalitiche, la coscienza di Zeno che vedremo. Comincia a scrivere quest'opera all'indomento della Seconda Guerra Mondiale, anche perché durante la Seconda... la Prima Guerra Mondiale, scusatemi. Anche perché in questo momento l'azienda del suo ocero è stata praticamente requisita dalle austrieci e quindi lui, non dovendo lavorare, si dedica alla scrittura e in particolare la composizione vera e propria comincia nel 1919 e termina con la pubblicazione nel 1923. In un primo momento il romanzo ancora una volta non ottiene molto successo, però questa volta sia Montale, un altro grande autore italiano che scopriremo, spero quanto prima, e Joyce cominciano a esaltare la sua opera e dedicano spazio, insomma, alla critica di quest'opera e quindi il romanzo viene tradotto anche in francese, acquisisce una certa fama e ovviamente poi di rimando diventa famoso anche in Italia, anche se effettivamente l'acquisizione della grande importanza che oggi ha è stata ottenuta parecchio tempo dopo, nella seconda metà del Novecento, sicuramente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quando comincia ad avere successo come autore, prende ovviamente, insomma, con più entusiasmo la professione del letterato, comincia a scrivere, a progettare nuovi romanzi, testi, però nel 1928 incappa in un brutto incidente d'auto e muore subito dopo, insomma, 12 settembre a questo incidente e il giorno dopo muore. Andiamo, sul vostro testo ci sono un paio di pagine in cui si parla della psicoanalisi e ve le consiglio caldamente, giusto per capire che cos'è, poi magari proveremo a parlarne. Comunque, vediamo un attimo proprio il pensiero di Svevo, è sicuramente molto complesso, però almeno le linee principali dobbiamo cercare di comprenderle. In questa prima pagina si sottolinea, insomma, la scelta dello pseudonimo di Guitaro Svevo, poi si sottolinea anche il fatto che Trieste e comunque lo stesso Svevo aveva la possibilità di muoversi e di entrare in contatto con la cultura mitteleuropea, dell'europea, significa a buona sostanza quella della Germania, dell'Ausia, dell'Europa centrale, in particolare con un centro culturale di grande importanza in questa fase tra fine ottocento e inizio novecento, cioè Vienna. Vienna, dal punto di vista artistico, letterario, musicale, è davvero un luogo di grande, grande importanza, anche per il pensiero filosofico e scientifico. Noi abbiamo visto che a livello di studi Svevo ha una formazione legata soprattutto all'ambito commerciale, tuttavia forse proprio per questa sua visione differente, indubbiamente diventa un intellettuale, un letterato di grande originalità. La letteratura ovviamente non è la sua professione principale, perché quella di manager d'industria è sicuramente la principale. Quali sono gli autori filosofici che hanno maggiormente influenzato Svevo, che comunque crea un pensiero, cioè ha un pensiero complesso, influenzato da questi autori, ma non abbraccia un solo autore completamente. Ne accoglie alcuni aspetti e quindi la sua visione è del tutto sua, personale. Innanzitutto Schopenhauer, il suo pessimismo radicale, per cui l'unico rimedio all'infelicità umana è la rinuncia alla volontà di vivere. Altro elemento della cultura di Svevo è Nietzsche. Nietzsche che vede il soggetto come una pluralità di stati in continua trasformazione. Si tratta di un concetto che verrà esplorato durante il Novecento. Questa idea che il soggetto non è sempre uguale a se stesso, ma cambia continuamente, si trasforma. Poi l'altro elemento della cultura filosofica di Svevo è sicuramente Darwin, che abbiamo già incontrato parlando di Berga. Voi sapete, Darwin è l'autore della teoria evoluzionistica, è fondata sulla selezione naturale, quindi la lotta per la vita. Il Svevo tuttavia viene accolto in maniera differente, perché secondo lui per l'uomo lo scontro non è nella natura, ma è nella società, è nella storia. Quindi questa lotta per la vita non è quella degli animali della giungla, per intenderci qualcosa di differente, e comunque dipende sempre dalle scelte dell'uomo. Infatti qui vi ho sottolineato la responsabilità individuale dell'agire. Cioè quello che accade a ogni persona è anche una questione legata alle scelte che fa. Ronaldo Schopenhauer ha un elemento molto presente nelle opere letterali di Svevo è il fatto che spesso la volontà e i desideri dell'uomo sono inconsistenti ed effimeri. E quindi Svevo mira a smascherare gli autoinganni dei personaggi, cioè le giustificazioni, gli alibi che si autocostruiscono per giustificare le proprie azioni, i propri errori, per attenuare i propri sensi di colpa e sentirsi innocenti. Rapporto con il marxismo. Noi abbiamo visto che aveva delle simpatie socialiste, tuttavia comunque non lo accoglie nella sua completezza, non accoglie il marxismo con la sua completezza, ma piuttosto ne accoglie le prospettive di tipo utopistico, nel senso che, un po' come Pasquale in un certo senso, cercare di fare in modo che tutti gli uomini siano soddisfatti, a prescindere dalla classe sociale, ma senza effettivamente eliminare la proprietà privata, o fare in modo che una classe sociale, diciamo sostanzialmente inferiore dal punto di vista economico, sia propri del potere. Diciamo, queste cose Svevo non le accoglie sicuramente. Molto importante invece il suo rapporto con la psicoanalisi. La teoria psicoanalitica serve a Svevo per scrivere, per esplorare la psiche, ma secondo Svevo non è uno strumento di cura, non è uno strumento terapeutico, è al massimo uno strumento narrativo. Dal punto di vista letterario, invece, i grandi maestri di Svevo, gli autori che lo hanno colpito e quindi orientato dal punto di vista letterario, sono i grandi romanzieri del realismo francese dell'Ottocento, Jacques, Sandal, Flaubert. Per esempio di Flaubert, soprattutto Madame Bovary, lui raccoglie la rappresentazione della miseria della coscienza piccolo-borghese, quindi è molto presente l'influenza di Flaubert, soprattutto nei primi romanzi. Altro aspetto sempre derivante da Flaubert è l'atteggiamento di irrisione fredda e corrosiva, cioè il fatto di mettere a nudo alcune caratteristiche psicologiche, in particolare l'inettitudine, il fatto di essere sognatori e il fatto di costruire delle giustificazioni per soffucare i sensi di colpa. Quindi questi sono alcuni aspetti che trae da Flaubert. Ragazzi, guardate con attenzione questa mappa, qui ovviamente ve la metto a parte, su Classroom, è complessa, però effettivamente qui vi richiama tutti gli aspetti più importanti presenti, sia dal punto di vista filosofico che letterario, che a questo punto con Freud, Darwin è sicuramente anche scientifico. Altri autori importanti nella creazione letteraria di Svevo sono Osorà, in particolare la sua ricostruzione dell'ambiente, Bourget, che è il primo autore di romanzi prevalentemente psicologici, alcuni autori russi come Turgenev e Dostoevsky, gli umoristi inglesi Swift, Stern, Dickens, perché effettivamente nella coscienza di Svevo noteremo questo sottile umorismo. Ovviamente è importante anche Joyce, tuttavia il vostro testo tende a demolire la teoria per cui Svevo ha adottato la tecnica del flusso di coscienza, che è una tecnica letteraria estremamente innovativa adottata da Joyce nell'Ulisse. Infine la lingua. La lingua di Svevo porta tracce della lingua tedesca e del dialetto triestino. Spesso è stata sostanzialmente accusata di essere una lingua sicuramente non bella, però tuttavia è estremamente efficace nella resa dell'aspetto psicologico dei personaggi. una caratteristica delle narrazioni di Svevo è quella di essere in terza persona e di vedere dal punto di vista della costruzione la prevalenza del discorso indiretto libero. Bene, possiamo completare qui, ovviamente studiate con molta attenzione. Grazie.